Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video, oggi faremo il test di taglio del Mora Companion MG Vi faccio vedere com'è il coltello Prodotto svedese Manico in gomma per una maggior ergonomia e foghero in plastica ok andiamo a fare il test di taglio ok adesso andremo ad effettuare il primo taglio con un rametto verde ecco qua il nostro Mora come vedete taglia veramente molto molto bene ok ora andiamo a provare su un ramo molto secco vedete che anche qua non abbiamo alcun problema in conclusione posso dire che abbiamo un ottimo coltello adatto a tutto, adatto alla caccia, adatto al fai da te, adatto anche per andare a funghi a un prezzo minore di 20 euro veramente un coltello sorprendente per 20 euro danno anche il fodero che permette di custodirlo dove si vuole e per questo video è tutto da Parafranz ci vediamo al prossimo video grazie grazie